La lista Stati Uniti d'Europa non è la lista politica, Renzi ed altri. Per me è la logica conseguenza di una vita politica passata a cercare di difendere i diritti civili e umani in Italia e nel mondo. Nel nome dell'Europa e del diritto. O ci sono gli Stati Uniti d'Europa o non conteremo niente. Allora siamo gli unici che hanno il coraggio di dire sul simbolo, non soltanto nei programmi elettorali, che noi abbiamo un sogno, quello europeo, che è all'esatto opposto di quello di Salvini. Salvini dice meno Europa pensando di dire meno Europa significa probabilmente nella sua testa più padania. Se oggi diciamo meno Europa significa dire più Cina. Noi diciamo meno Salvini più Stati Uniti d'Europa. I risultati secondo me sono risultati che naturalmente vedremo il 10 giugno. Siamo molto ottimisti. C'è una fetta importante di italiani che all'europeo vuole votare per l'Europa. Allora al nord-est dove c'è la padania e il grido di Salvini contro l'Europa, noi rispondiamo con un deputato scozzese che ci dice guardate senza l'Europa ci sono licenziamenti e si perdono posti di lavoro. Meloni ha detto parlare in questo momento di Mario Draghi e pura filosofia perché bisogna prima votare. In qualche modo lo ha detto anche Macron che insomma lo stima ma prima c'è il voto. È il vostro candidato Mario Draghi alla guida della prossima Commissione europea. Lei mi fa tornare più giovane di tre anni perché questo continuo balletto su Mario Draghi mi ricorda quando tre anni e mezzo fa tutti intorno a me dicevano che io avevo pochi parlamentari per poter cambiare le cose, che non ce l'avremmo mai fatta e alla fine ci ricordiamo come è andata a finire. Abbiamo mandato a Casa Conte con i pochi parlamentari d'Italia Viva e abbiamo creato le condizioni per il miracolo Draghi. Naturalmente il miracolo Bis ha bisogno che gli Stati Uniti d'Europa abbiano un buon risultato, abbiano cioè degli eletti che al Parlamento europeo possano far sentire la propria voce. Ovvio che il successo di questa lista significa anche la possibilità che Mario Draghi abbia un ruolo nella prossima Europa. Gli altri azioni hanno scelto la divisione anziché l'unità. Sul nostro simbolo trovate il progetto politico, nel caso di azione trovate un cognome, a voi la scelta se votare la politica o un cognome. La cultura ad azioni fino all'ultimo momento utile ha iniziato a quel punto una campagna di fango nei nostri confronti, di calunnie, di diffamazioni alle quali non intendiamo più rispondere. Noi partiamo da sondaggi confortanti in questo momento che ci danno ampiamente sopra il 4%, ma credo che possiamo fare sensibilmente di più. C'è un principio che noi abbiamo messo molto chiaro, chi si candida per l'Europa va in Europa. Le candidature specchietto per le allodule, le candidature finte, le candidature prendi voti scappa, sono il massimo della mancanza di serietà. Se ti candidi per l'Europa e dici che non ci vuoi andare, stai prendendo in giro i cittadini e noi non prendiamo in giro la gente, a differenza degli altri. Grazie a tutti.